Ciao ragazzi sono D'Archivolo e benvenuti in questa nuvissima live serale su Realm Royale insieme a Xyrtam NG e al caro Andrea Verottatanca non so se li sentite perchè sono su Xbox quindi eh non lo so devo dire oh cavolo mi sono dimenticato il nome su Xbox eh ok allora per ti invito io ah ottimo vedete io come amico d'arte non mi fa ma quanto ti buon gioco questo gioco ma voi l'avete mai trovato questo gioco? no e io non riesco manco ad entrare in sto cazzo di gioco vabbè ho fatto una vittoria nel Royale ah già tu si infatti mi ricordo ecco qua sono nella tua un po' una chiavica ok si sente bene perfetto intanto c'è il telefono che non vuole collaborare quindi non so se in chat cosa stanno scrivendo ma nel frattempo parliamo dell'E3 parliamo dell'E3 nel frattempo abbiamo diciamo di questi amici allora come gioco direi cyberpunk benissimo a parte ci sta pure come si chiama quello che fa John Wick eccetera Ken Ritz quindi EA eh mamma è tantissima roba poi un altro gioco che sembra interessante era tipo Elden Ring mi sembra una cosa in genere eh esatto no no non farlo cosa hai detto? no non lo faccio però non mi vuole fare entrare no ma come non ti vuole fare entrare c'è ne penso che si l'addressa che ti ha subito è Radimismo eh già usato ma hai fatto o accedi e non registrati? ti fa accedi? no no ma non mi sono mai iscritto come iscritto? no aspetta devi fare impossibile devi fare accedi no perchè devi utilizzare l'account di facebook che è capito? ah che giusto eh sono i trelli dei registrati ma ti ho invitato a parte te a me non mi è invitato a giocare uoh aspetta forse sta laggando un po' vedo ah no è il mio telefono mi trasfero è il mio telefono? si non lo so aiuto aspetta se vuoi ti mi doi a te non ti è arrivato su se ti è invitato no non mi è arrivato niente ma come si vede la mia live? io la vedo un po' aspetta aspetta hai accetto sta roba no mi si vede bene perchè non mi fai entrare? non ci sta gioca invitati mi fa piacere si aspetta forse ho capito perchè non non arriva in poste e danno in vidi perchè si sto offline su mi ha fatto è un po' bugato allora dire il tuo nickname andrei ti mi tolgo io vai detatanco ah detatanco ok si come nella realtà ah nella realtà comunque vi devo ricordare che devo mettere i alert che mi hai dato tu vai perchè mi sono proprio dimenticato l'altra volta ah ma ti sono piaciuto di voi? si li ho visti sono proprio che cazzo che cazzo bellini eh buona domanda come si gioca a questo gioco? mi sente fortnite ecco solo che senza costruire praticamente e poi devi tipo disincantare le armi piccione ciccione piccione ciccione tetta tanca come si scrive ragazzi? tetta tanca vabbè io ne andassi ah ma sto con te sto con te si ehhh no mi sai di no aspetta controlliamo ah non guardare questa roba mmm se non scrivi t grande faccio allora aspetta mmm non posso tipo ma cacchio si fa ah ok come ho detto? t grande oh ma ciao giulio h e io ci risuono eh sei riuscito ad invitare t h e t grande t grande ciao giulio quattro quattro tutto maiuscolo tanca alla ca t a n tanca e lì siete arrivato ok siete pronti? giulio ma tu ce l'hai sto a gioco? tra l'altro scusami per l'altra volta che ti ho appeso mamma mia se ti ho appeso male ok ma il riccardo sta diventando una brucia del suo eh vabbè che vuoi fare? e non mi offendere quella perfuna scusami ah dove ovviare io pure sto scherzando chiaramente no non lo tengo ok perfetto vabbè tanto è gratisso se vuoi in effetti poi noi iniziamo tanto ho fatto ricordare che domani starò con quella bella persona che bello ah che cacchio di caldo che fai ragazzi quanti gradi sono qua a Napoli? eh tipo trentanove buah trentanove cavoli spero io trentanove fine settimana da me è andato a trentasette gradi non lo ha drizzato come lo dice a peppe ci sta mettendo un po' di tempo dunque questo pollo che gira così mi staranno un po' fastidio però ok carino ma basta è uno stupido piccione eh lo so sono contento che si trova a passare in più eh Dani l'ho scritto però su un gruppo che stavo in live quindi che puoi qualcuno mi spiega come si gioca eh eh ma io voglio vedere ah quindi muoio e basta no 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 lo so lo so se qualcuno si vuole unire che sta in questa live potete farlo basta direi posso entrare cioè certo non lo sapevo che l'avresti detto allora vediamo siamo in guerriero questa volta perché non cambia niente in realtà allora Andrea devi scegliere una classe ma non cambia niente scegli quello che vuoi ok bravo devo ancora entrare in partita ah ok siamo tutti guerrieri ho fatto tutti i tuoi amici moderatori per arrivare non fai prendere collena verso tu eh no ma perché alla fine c'è Giulio mi serviva eh per fortuna che c'era poi aspetta l'oro ma c'è un tizio che sta ballando di poi il ballo del pullo che bello aiuto aiuto mi ho letta allora dove ci buttiamo non mi ricordo niente aprite la mappa eh ma adesso avevano i controlli quindi no no con la tastiera ah dove ci buttiamo ok con la tastiera quindi eh tab tab ma che è acceso di zar c'è questo tab no è un tizio che entra dove si è aperto allora dove ci buttiamo qua qua jade garden jade garden va bene buttate te 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 bello che atterri senza sono i paracadute verde 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 ma lo vedi quello verde andrea che sai come si si qui non c'entra eh vabbè io son morto già ve lo dico ma mi sa che oh cazzo ecco qua guarda eh la la oh ciao guarda un altro che bello sono un pollo aiuto mi hanno lanciato un'onda energetica che bello è durata molto questa partita mi ha fatto piacere che siamo entrato in partita non mi avete detto niente vabbè vai Peppe puoi sopravvivere ma c'è un pollo no sono un gattino come come perché sei un gatto ma io ti vedo un pollo no questo non è lui ma questo non c'è vabbè torniamo alla lobby vediamo se abbiamo più fortuna si si torniamo alla lobby non mi funziona la lobby qualcuno mi può spiegare qualcosa allora innanzitutto bisogna entrare che è un punto dove non c'è tanta gente almeno possibile spiegarti qualcosa ragazzi mi hai fatto yeh bronzo 2 yeh funziona Peppe tutto bene? si si tutto bene ok perfetto beh rifacciamo allora direi vai vai direi di lasciare il segno in una zona un po' più tranquilla si non me l'aspettavo yeh 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 vi avviso in questa live verrò parecchio hai mangiato una cosa di salato? eh che cosa ho mangiato mi dirai cosa hai mangiato? cioè mi senti non so se la conosci la cheese stick l'ho fatta io a casa come no? ah buona quindi però molto formaggio e carne macinata mi... poi la carne è sbagliata però che hai fatto? cioè la carne non doveva essere macinata doveva essere tipo di bistecca fatta a fettino con i tagli non ascoltatemi se io ho mangiato la carne di cavallo ma pure io è troppo buono è stupendo me lo male che non sente la persona che dico io vegano non è un perosessuale poi ho mangiato la carne di cero lo che volete è pure buona è dolce ora che sono in lobby qualcuno mi spiega allora dici tu vai 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 allora praticamente se vedi di lato ci stanno le nostre vite no? c'è presente? e a fianco c'è tipo un simbolo del pollo no? con un 3 quello indica che tu praticamente puoi essere puoi risuscitare aspettandoti un paio di secondi però praticamente sei un pollo e devi scappare prima che ti sparano e muri per sempre e questo ci siamo no? ok come si corre? no eh cammini corri di lì corri già ok si poi con asalti vabbè si spara come su un qualsiasi gioco spara tutto buttiamoci ti prendi la mira qua ok adesso non ci prendiamo no no meglio di no posso consigliare? dove qua? vai dici eppure dal cerchio dici dici mettimi vabbè se no metti tu vai 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 dove bisogna andare? lì si va bellissimo dove sta il verde? lo cazzo l'ho perso ah eccolo ce l'ho messo io l'ho perso poi mi lamentavo che andrea non lo vediva sulla qua non c'è una casa non c'è niente aspetta di lato c'è tipo delle case vedi stanno delle case qua andiamo alle case quelle blu oh cazzo no sono incastrato c'è gente c'è gente c'è gente addio via via F alt F4 alt F4 una cesta si ma dove siete? io non posso farlo io sono al circo oh wow un pompa un pompa un cecchino tipo leggendario no io non ho nulla ho sbagliato tasto io mi sono perso ma questo pure questo pure avevo io questa è buona disincanta disincanta ciao Peppe ciao ah è un epic yeah disincanta allora praticamente tu che devi fare? quando quando non ti serve una cosa no? per terra l'aprendi e premi il tasto per disincantare ma non so quale su xbox eh r e t ci rimane ci rimane no no danni da caduta no no non ci vuoi il burst è un fortnite per gente per newbie per newbie ma questa è buona sta cosa ce l'avevo io ma è normale vabbè vabbè ti vedi questa esatto in basso a destra hai diciamo i poteri questa ti mette una cosa è un problema che non lo vedo perché essendo che gioco su console ah super buono mmm no aspetta andrei vieni qua prenditi questo qua è meglio è quello di prima però è epico praticamente raro anzi scusami no 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 bravo hai fatto il cavallo non so come si parla vieni vieni come si tolgono le armi da qua non lo so in che senso ah start no perché d'altro no ti serviva quello era buono vabbè start e poi a e invece per svuappare cioè per se vuoi un'altra y ti puoi uscire o x non è y per svuappare per svuppare tra un'arma dani se ci sei ancora riconosci quest'arma ma no comunque tasto destro ah attenti attenti cazzo wow l'ho beccato buonissimo quello ok bravo ottimo 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 si ma io avrei bisogno un attimo di toccare la sensibilità perchè questo lo prego è un po' troppo grosso c'è un po' troppo chi vuole delle cose per la cura energia e forse serve a qualcuno e a me però vabbè c'è un poca vita si c'è abbastanza di vabbè wow ce ne ho 10 andrei a voi una pistola però ce l'ho allora lì si incanta cosa hai fatto? hai lanciato manna ci stanno gli insetti strani a casa mia allora dobbiamo entrare nel cerchio mi sa Z gidi up cavallo io non vi voglio mangiare il cavallo però poi mi offendo io salta dal cavallo questo cavallo c'è cade giù non si fa niente nemmeno lui c'ha delle cavallo ecco appunto come l'ho detto che muro il cavallo è morto il cavallo rip cavallo si si rompe il cavallo si si è rotto si è buggato il cavallo the fox the fox si e ha detto che sta arrivando la nebbia tipo vabbè luttate luttate allora vi consiglio di disincantare le cose perché vi danno tipo i soldini per forgiare si 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 infatti eh devi premere R di premere la levetta levetta a destra devi schiacciare quali sono le pozioni che non posso prendere se volete venire venga a prendere non mi piace eh scusami sarebbe la levetta a destra F se qua non serve se qua non serve io ho un'arma leggendaria quindi non vi preoccupate ciao eh io ho sei buggatino questo non mi piace vai spacca tutto spacca cioè disincanta ah ma quel tizio che sta in squadra con noi è tipo addio come si vede la live ragazzi? cosa? come si vede la live? a me si è bloccata sul telefono no no si vede bene ok perfetto cioè il mio telefono che è un po' una chiave quindi no no vabbè vabbè io ce l'ho qua vicino a me vedi vedi sto scassando i tasti chi è? grazie saluta grazie un po' in ritardo l'ho detto ma wow 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 che cacchio era quell'animazione dove dove? dove? aspetta vai cavallino tutto rotto ragazzo curate 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 si vede l'arma no c'ha una spada questo sei un pollo oh no c'ha l'ascia sei un'ascia no ah uno è un pollo io sono un pollo aiuto no no non ti incastrare però mannaggia ho fatto tantissimo danno ok nasconditi qua dietro e prega uff quattro ricarica 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 hanno acceso ok ti ho rimasto quattro porca vacca quattro 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 h mamma mia occhio sempre sei di pronta ss ah quattro headshot add shot attendo andrietta non renderò la cazza a sinistra ai 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 attento attento ne sono due ne sono due aspetta andrii non ti avviciniamo eh non andrò io devo ricaricare ok aspetta andiamo ah c'era un altro 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 Dove sta? Ah, è stata qua dentro Ah, l'ha ammazzato Sono uno davanti a me Penso che ho ricaricato Uno pollo Scappa, scappa, scappa Uno, uno da solo Uno da solo Che mira di meredaccio per una volta Occhio, occhio, occhio Sono qui Ah, ci allascia La spada, quello che è I torri Potrete, polla, no Ma è la bella Ma ti ne avevo ucciso Boh Ma come si vede? Ho fatto un'eliminazione, vabbè Non ti saprei dire Lo dice sotto, se non sbaglio, me l'ha detto Io non ci sono uno No, io adesso mi devo abituare di nuovo con il mouse e la tastiera Quindi Vabbè Vabbè, vabbè Volevo vedere una cosa Ok, molto non ho niente Qua non ho niente Qua non ho niente Qua non ho niente Qua non ho niente Blah, blah Piripipà, bababà E piripà Ok Un'altra? Sì, sì Come no? Epini Aspettami, pure Fabio Fabio? Parla di due, Fabio Aspetta però Di due, me Ah, ok No, perché abbiamo un'altra, ti ricordo Ah, sì, sì Quindi Ho sbloccato Delle nuove coffe Aiuto, sto morendo di caldo Waioni Ma non c'ho nemmeno un ventilatore Me lo devo prendere C'ho tutte le finestre qua aperte Ma Un cazzo Di niente Non basta Dea Comunque ragazzi Sto portando giù Assi World Evolution In questi giorni Perché Non devo ragionare Vorrei finirlo Tutto la storia Quindi Però non ce la farò mai Fino Al 13 Perché io parto Quindi Beh E Egitto No 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 A parte che sarebbe dopo Sì Il 13 Cioè Parti Sessione Giovedic Là è bello Poi nemmeno puoi dire Vengo in là E faccio una live piccolina No Tutta la mattina Sto occupato Quindi Vada Dipende Il pacco Che danno i bambini Esatto L'ho letta già Aiuto Un totale di 250 shard Wow In una partita Aspetta Ma posso Vai Spero che Ok Questa pure la conoscevo La volete vedere Che fazoletti napoletani Che c'ho Guardate Cioè Proprio Non so se si vede Cioè A proposito Mi prendo uno Ho scelto il mago Perché non lo so Ho scelto il mago Ma io qualcuno Ha aperto una macchina E' infatti Guarda come ballano Questi mari Voi saluto Ciao Allora Vai vai Decidete C'è una catapulta Così se succede qualcosa Ci buttiamo Va bene Vai Volave Ragazzi vi ricordo Se volete unirvi A noi fate Ah Nella chat Vi faccio entrare Guarda una fattoria No Vai là No sugli alberi Ok Cavallino Corri Ecco qua La cesta Bela Ok Che arma un po' Mh Ho trovato un pompa Non mi traggetto Cosa fa questa? Ah Non mi piace Sento un cavallo Aspetta Aspetta Aspura La prima volta Ho trovato un'arma leggendaria Non la troverò mai più C'è una pistola Che me ne faccio una pistola? Oh che sta succedendo? Sento che si Uh Healthy chicken Qualcuno in difficoltà? Andrea Dove sei? Non lo so Ma sto morendo Vai sopra il tetto No Ah Aiuto Non sto scivolando male Ci sono io Aspetta Cerco di raggiungervi però Sono un po' Da altre parti È ammazzato Sì Solo che non ho vita Sì Aspetta C'è questa casa grande Con tante ceste Ice block Vita 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 No No Non ne ho nemmeno io Però lo studio Non mi serve Offione Sì Ok Devi premere giù G Giù Ok Esatto Eh Pa 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 Pappa No Oh c'è qualcuno Dove sto io C'ho una mira che mamma che faccio laura C'è la finestra là No questo non è normale Non mi piace come sta girando Ok ok non è vero C'era quel tizio che girava Sembrava che aveva tipo non lo so Qualche cheat però non è vero Eccolo E' un nemico l'ho ucciso l'avevo preso io Ottimo ottimo E' quello che ti ho detto che sembrava che girava Non lo so quando vedo la gente che gira Mi fa sempre pensare tipo a qualche hacker Aspetta c'ho un po' un'arma Ok questo è meglio No cazzo Ok bene Oddio bastardo Bella Che roba hai voglio provare Lo scettro Era pieno di leggendari Sì sì è molto più interessante di Fortnite sinceramente Ma qualcuno sta facendo una cosa qua Sì sono io sono io Ok Wow che roba hai Soul gust Che cosa che com'è di dire Wow ok È ma leaning station è leaning station Aspetta facciamo le pozioni ad Andrea Perché non so che è necessario Ah sì aspetta Mi vedo una cosa che ne ho fatto Comendo le shard È la forge La forge Ah C'è un'abilità leggendaria qua Prendetela C'è un'abilità leggendaria Mi serve la cosa per curare Dov'è Vedi là sopra È tipo una bomba Ah ok Vedi se ti piace Io c'ho uno scetto Ok Ok spara Tipo a 3 Aspetta ma qua dovrebbe Dovrebbe uscire le pozioni Lo c'è un tizio Aspetta stai dentro Stai dentro tu Andrea stai dentro Vai vai Ok ok Aspetta 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 vengo io Hai preso? Ci sono le pozioni qua Andrea le vuoi? Aspetta Ma che è successo? Forse se l'ha portato da quello Prendi prendi Ok ma come si deve La posizione? A me a capo Non so perché tu stai su Xbox Verso su Ok questa c'è la misione Questa pure c'era A posto Ok Ok Ma che devo ancora imparare Sì sì Gano gano Sto aspettando un attimo L'arma qua Vai vai Che figo Sniper Che cosa si può fare? Ehm premi qua E poi vedi le cose che puoi creare Ok c'è una pozione qua L'ho presa Praticamente devi distruggere le armi qua Le armi che trovi Fa Ah esatto Comunque le armi che trovi Che stanno a terra Premi R Sarebbe la Il grilletto C'è la levesta destra Così le Sono altre ceste R sarebbe La levesta destra Questo non mi serve I giri Eh bravissima Ah ok ok Questo non mi serve Ok L'ho arrivata 250 di queste cose qua Per una missione Quindi preferirei non morire Qua sono già stato Non lo so Mi sa che ho mandato la sbattura Ottimo Buono buono Ho un colpo solo Sì Però fa danno molto Perché comunque Essendo monocolpo È pesante Buona luna nell'in Aspetta che arrivo Oh c'è pure qua Dove sto io 4 4 4 Curioso Ho diventato un pollo Morto Questo è inguaiato Aspettate arrivo io da voi Ah corri Stanno qua sopra Sta dietro di me Ok non mi ha visto Sta avanti Sta avanti Dietro di voi Cioè Ok Morto Morto Sì sì Ok perfetto Non mi piace sto bastone Bello Ah è tornato in vita È tornato in vita Mi sta scappando Ragazzi La nebbia La nebbia Oh cazzo Io me ne scappo Vuoi ti Vieni 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 Andrè Attenzione Andiamo via Tanto poi Lo ritroviamo di sicuro A quello Venite qua Appena ci fermiamo Figuro Perché c'è tipo la pozione Che lancia Figura Bella Mi piace Dove la cosa No li pensate Andiamo avanti E dopo li vediamo Noi Noi ne andiamo più sicuri Stiamo nella safe È nel castello Dobbiamo andare Per forza Mi sa Andiamo al castello Andiamo al castello Anche se è pericoloso Perché Che ne so È tipo una specie Di Pinnacoli Infatti C'è pure la forza Aspettate State fermi Tutti quanti insieme Ok Mi sta curando Mi sporo Mi vedi Uno è un pollo Uno è un pollo Dov'è? Ah c'è un tizio È tornato di vita Uno Oh cazzo Muoio Non è morto Ok Diventa un pollo Poi piglialo Ok Morto Ma sento Tipo un ognomo Ma sì Infatti L'ho sentito Anch'io Ma lo sento qui Sta Eccolo Ah sì Eccolo Ma lo è scelto Ce l'ho già Ah infatti Pure io Sto pieno Vado Un tizio Con la forza Ah c'è un tizio Sì Cazzo Aspettate Andrì Eh sta una più bolla Oh grazie per il follo Non so chi sei Grazie Perché sto concentrato Poi dopo ti reggo Cazzo Sono tutti quanti qua Spera andare io ti curo Appena torni Ok bravo Fermo Bella C'è un tizio là No no Sopra là C'è un altro qua Sono tutti quanti qua Andrì Aiuto C'è un mila di merdo Che l'ho ucciso Ma se fate attenzione Che ci sono anche dietro Ah cazzo Quattro 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 Ah Andrea Sei tutti noi No Vai 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 Come c'è sempre il mago Che sei scritto Ma sei scritto Un'altra persona in realtà Curati ancora Curati ancora Andrì Vai 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 Andrì scappa Scappa come il vento Nel frattempo Bevo per te Abbassati qua Eh Vabbè Non male Abbiamo giocato bene però No infatti abbiamo fatto Una bella partita Voglio vedere questo Che fine fa Commentiamo su di lui Dai Eh se non muore lui Non possiamo vedere Dai muori Muoviti a morire Ci pensi vince Questo si pensava a fare Il cecchino Sopra la finestra Non ci ha proprio aiutato Da un certo punto Sono andato in panico Che ho visto Un sacco di persone ovunque Sì infatti Secondo me Il castello è da evitare Ma sono tutti quanti qua Fatti guarda Oh bro C'ho la mia stessa mira Praticamente Ciao Ah ciao Happy Gamer Relax No scusa Ho detto male Alex Scusami Happy Gamer Alex Ciao Ciao Tutto bene Buonasera Buonasera Scusami Giochi a questo gioco Mi sa lisi Dato che mi sta vedendo Per questo Oppure Ti sono simpatico Vabbè Vabbè questo qua Se la corre un po' Comunque lui ci può pure Far ritornare in vita E non mi sembra il tipo Però mi sa E' alla cordia Ci sta Che cos'era I goblin Sì L'ho visto Stava sopra la Sì perfetto Se vuoi giocare con noi Sì Ti invito Tanto un altro po' Stiamo Le varie Categorie Ti provi C'è il ladro C'è il mare Sì Cosa cambia In realtà Non molto Penso Non Cambia quasi niente Tanto è una questione Di schien No aspettate Quello che ho letto Praticamente c'è Presente queste abilità Qua no Per esempio Col mago Quella della cura Mi sembra che cura Di più Una cosa del genere Ah ok Vabbè Sono tipo delle cose Secondarie Non so come spiegarti Sto giocando su PS4 E gioco la PS4 Ok bene Noi abbiamo Uno Xbox E due PC Si può giocare con PS4 no? No Purtroppo non è crossplay Con Ah cavoli Eh vabbè Allora Mi dispiace Guardaci Annaccia Questa PlayStation Niente Non ne vuole proprio sapere Bah Questo qua invece Non vuole morire Stupido Si infatti C'è una forza La pagina Eh non va Con queste fatte Sì Può andarci Però Ha un po' paura Spero che ci Può chiarire Risuscitare Quanto c'ha Non ce la fa C'è la fa risuscitare Uno di noi solo Eh Vabbè Vediamo un po' Se poi Qualcun altro Magari Che risuscita Poi Aiuta Eh vabbè Ma penso Che risuscitiamo Senza i punti Oddio Se risuscitiamo Quei punti Io risuscito Tutti gli altri Ah è una Switch Con Switch Si può giocare Sì sì Con Switch Eh semmai Se vuoi Sì Non ricordo male Con Switch Vediamo cosa fa Vediamo cosa fa C'è un problema Ne ha uno dietro Eh boh Se si nasconde Un po' Un po' C'è cosa Che cura Comunque Chiaramente La porgia Fa rumore Eh lo so Ma tipo Non è uscito Io a caso Ma ancora Non è uscito Il gioco Lo posso Comprare 13 euro Vabbè ma Scusami Sto gioco gratis Perché No vabbè Grande No non ci vuole Di animare Perché non lo conosciamo Quindi È un gioco Da novembre Ah ok Quando è uscito Sto gioco Ragazzi Vabbè bravo Mori Forza Uccidilo Per favore Già c'è più Sopplatino 1 Cavoli No non giochiamo Da poco Ecco appunto Vedi Vabbè sto qua Se vincevo con lui Che tipo Sta qua Come un pollo Effettivamente Capita la battuta Oddio Ma gioca da pc O da xbox Questo Come faccio vedere Cosa Come faccio vedere Da che console Oppure pc Usa Già gioco Devo comprare Così un pacchetto Ah ok ok Per la switch Si parla Per Natale Vabbè Non ti preoccupare Tanto Noi qua stiamo Cioè quindi Se fai un acquisto Praticamente Si blocchi il gioco Vabbè Diciamo Non ti conviene Se il gioco Ti piace tanto Allora Si Nel caso Magari Puoi valutare L'acquisto Questo qua Pensato all'armatura Non è bravo Però intanto Tanto Eh oh cacchio Non so parlare Intanto Questo qua Piano piano Sto facendo Tutti quanti C'è o meglio Non provi Ma alla fine Non ha resuscitato Nessuno No Domani fai la live Eh si devo vedere Però se su questo Oppure su Jurassic World Evolution Semmai Se ci stanno Questi due signori Con me Potrei pure fare Una bella live Su questo Io ci sto Ti ho detto Il pomeriggio Mi guardo la Da X Ah si Semmai allora Facciamo quello insieme Mi ripendo Vuoi andare La sera Ci sto Ok Ok Poi vediamo Mi organizzo un po' Tanto qua Mi trovo Ti sei iscritto Quindi Comunque Se ti piace Pure Giurarsi Guarda Per luce Ah Ho detto Sei arrivato Uh grande Vero Tu sei il cinquantesimo Iscritto Complimenti Wow Quindi adesso Te lo compra Da tipo Quasi quasi Ah c'è l'IP Su pc Allora posso Vai Possiamo giocare insieme Allora vediamo Organizzare qualcosa Alla sera Dai Vabbè Morto Siamo arrivati Terzi Con lui Tre eliminazioni Il team ha fatto Quindici Ok vabbè Vabbè Io ve l'ho detto Quindi ho un po' Abituare Io ho sei eliminazioni Sto giocando con Il mouse Non mi trovo ancora Quindi Anche perché Da un sacco Che non ci gioco Il mago mi piace Sempre comunque Però penso Che l'assassino Mi piace più di tutti Non so perché Vabbè niente Qua Quanto lascio Non so Broccato qualcosa Ah no Ok vedi Ah ma stai bevendo ancora Ah sì Ho finito adesso Voglio farne un'altra A chi ora Verso Sempre verso le nove Più o meno Inizio normalmente Sì Quindi se ci sei Allora Che facciamo Sì sì Allora facciamo Le ultime due Dai Ah vai vai Non ti preoccupare Sì 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 no Infatti va bene Allora stiamo Per concludere Se facciamo Queste ultime due partitelle Giusto per finire In grande la serata No ragazzi Capito 50 iscritti Wow Grazie a tutti Veramente Ottimo Domani all'ora Si festinge Porto Lo champagne In live Ok domani giochiamo Perfetto Porta Ah quello Ah bello Bello Quello Ve lo Lascia Pai Ma avete visto Che hanno lanciato Un saranno Nello spazio Sì Perché poi Spaziano Un lanciato Di tutto Nello spazio Pure la spazzatura Ah aspetta Sì Sì c'è proprio Un canale Youtube Questo L'arrivo Il mister Quarta Lancia Sempre Robbia Sullo spazio Ah ma è proprio Lui che lo lancia Sì sì Demogli assassino Ma è una cosa Legale Si può fare Non penso C'è una cosa normale Ah ma ho finito Tutte le queste Che bello Tutta quella Quanta quantità Di carburante Controflusione No via Come si può Abbonare Oddio Effettivamente Per ora non si può Perché non sono Un affiliato Giusto Peppe È così che funziona Eh esatto esatto Sì dal momento Che raggiungi La percentuale Lui potrà abbonare E quindi Piano piano Però grazie per il pensiero Veramente Grazie mille per il pensiero Grazie Lo so Direi che mi fa schiattare Contra i fatti Perché non li viva mai Sìì Ma siamo tutti quanti assassini Mi sbaglio Uno sono io L'altro è Tappe E l'altro è Garte Beh se vuoi sapere il mio nome Mi chiamo Riccardo Che sceglie Scusa Un altro Riccardo Amato anche L'archivio Se noi effettivamente Abbiamo questo Piccolo gruppo Che ancora si deve gestire Vero Ma quella di unione Alla fine Ah vabbè Ci ho rinunciato Hai detto basta Sì sì Ci sono troppe Teste da mettere D'accordo Sinceramente Una winning life Va bene Se ci sei tu Lo facciamo Allora Ma vediamo Ma vediamo Di farlo pure qua Ah Allora dove ci buttiamo Facciamo lo store Ah proprio lontano lontano Va bene Va bene Giusto per vedere Eh sì può darsi Speriamo di trovare Qualcana Magendaria E tropici Oddio Uno Due Aspetta mi butto un'altra Ok ora Ah beh non ti preoccupare Vedi pure io Non sono Grandissimo Cioè Alla fine io c'ero il controller Ecco Però C'ho il problema Che con Il cavetto che c'ho Unitato di stacca Quindi Figurati Se fai vedere Le mie live Che ho fatto Un Jurassic World Evolution Non i due per strigo Cacchio Si stacca il controller Si stacca il controller Non mi conviene Ok c'è un tempio Che bello Andiamo nel tempio Aspetta Ma secondo me È un riferimento Perché la forgia perduta È tipo L'arca perduta Questa è buona Doge Rol A vero Dammi qualche arma Allora No Anche quello mi serviva Andiamo quest'arma per ora Poi cerchiamo di trovare Qualcosa di un po' meglio Ma forse lo usiamo dopo Lo stile di scrittura Di Happy Gamers Alex Il ragazzo che ti sta guardando È classico Di chi è tedesco Tedesco? Non so il perché Sei tedesco? Cioè hai Questo non mi piace Noi siamo di Napoli Io è Peppe Invece Caro Andrea È di Aspetta che mi ricordo Genova Genova Non mi ricordo Cacchio È sopra comunque Genova Ah hai indovinato Genova Ah ok E allora Che cosa ho vinto? No Ho vinto Ma che cosa? Ho vinto Ma che cosa? Sto pure con le cuffie Ah ecco Non so come fai Peppe Grande Però mi sa che devo cambiare un po' di tasti Perché non mi piace questo fatto Cioè F Poi c'è 4 Un po' lontano Pure i tasti dietro Oh grande Una bella arma Mi sa che mi conviene tipo Ci conviene tipo un po' iniziare a correre Vabbè dai Non mi serve per ora C'ho Quello che è un po' più No No Charger mi piace Questo è interessante È meglio questo o quello? Sparano Io Io Ok Prendo questo Dai Vabbè Prendo questi due Penso siano uguali In realtà Se vuoi vengo per una partita Se non c'errebbe un aggiornamento No non ci dovrebbero essere aggiornamenti Se vuoi venire vieni Tranquillamente Sì sì vieni vieni L'ultima maniera che facciamo Ma sì vai Aspetta Noi però stiamo parlando su Xbox Quindi se non Non so se ci senti C'è la chat in game No giusto Cavoli Aspettate ragazzi Vi raggiungo che sto un po' indietro No non lo attacchi Non lo attacchi Non lo attacchi Ah è bravo Non lo attacchi Arrivo eh Ok l'ho attaccato Scusate È partito il colpo Bene Ma ancora Ma non ho finito gli effetti Ok Ve lo sto facendo niente Sto indietro a prendere la roba Andiamo nella palute Parlate su Discord Ma se io Beh che dici? Sì Ok Non penso Chi uccide il pollo Vorrebbe darla Chi uccide il pollo Vabbè qui Ti avrei Allora facciamo una cosa Appena finiamo Ci mettiamo sul Discord Io e Peppe Perché Andrea non sta Sta su Xbox Quindi non può parlare Su Discord Quindi penso che Lui non lo senti Poi quando giochiamo dopo Quanto gente Allora la tv No 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 Era gente Lo so Era gente Era gente Vai vai Dov'è? Esatto Dov'è questo pollo? Bravissimo L'avete ucciso? Perfetto Sì, sì Io vi ho questa lozione, se no, mi dispiace Si sentiva? Ok, grazie Il problema è che Diciamo il pollo poi resta uscita Sì, succede che tipo mentre lo spari Se passa troppo tempo torna in vita Un martello? Quello è buono, prendi, provalo Non mi piace niente E disincanto Questa pure non mi piace Mi voglio abbonare Devi aspettare un po' Un altro po' che ci arrivo Tanto a Come si chiama? Sì, insomma Ecco, mi veniva Sì, appunto perché tu sei il cinquantesimo Quindi devo solo fare Un po' di rateri Della gente che c'è, eccetera Esatto E poi quando me la comunicano Tipo che sono affiliato Vedi che io quando ti rompo i coglioni Che ti dico stream Stream, stream Ah, che cazzo Vabbè sì, mo Mo che state Voglia di streamare Cioè, oddio Dal 13 fino a 28 Non ci sono ragazzi Quindi, già vi avviso Soprattutto a te che sei nuovo Non morirò Se vai su Instagram Se mai metto qualche foto Uh, questo è buono Metteremo qualche foto Di dove vado Sul mio profilo Se mai Non so, su quello normale Oppure quello di Del canale Penso normale Tanto vi metto pure Quello se mai In descrizione Non lo uso quasi mai In realtà quello normale E nemmeno quello di Ragazzi, io stanno andando a forza Ah, sì, andiamo Aspetta Aspetta, mi stanno scrivendo Però qua Non posso rispondere Corri, rotola L'abbiamo un minuto Ce la facciamo Peppe, non ci conviene Vai fare un attimo Io mi sa che me ne vado Direttamente là Perché guarda Quanto sta vicino Vai vai E lì si riesce a sopravvivere Non morirmi Peppe Mi servi No, no, no No, no, no Non muro Ma perché non confido in me No, no, confido in te Però pure Peppe ci serve No Sto entrando Perfetto Beh, poi dopo ci organizziamo Quello effetto di discord Beh, ti ho detto Stai attento Dai, mi serve Ma sì Oh cacchio Non ti castravi gli alberi però Ok, perfetto Spengo Prego Ah, chiudo Sto morendo di caldo ragazzi Mi sciolgo il live Vai Corri Cavallino Salta Cavallino Bello pure lui Io l'unico Mi sarei andato in tempo Speriamo qua No, scendi da cavallo Questo mi piace più forse Vediamo Ok, volo Eh, sì Ci sta Ciao, bello Non ti castravi nelle colonne No, non voglio fare Spider-mon Su Xbox C'è anche discord Non lo so in realtà Mi sembra di no Su Xbox Non c'è discord No Ah, ma c'avevo gli scudi qua Perché non mi sono bevuto gli scudi Molotis Siete tutti e due vivi? Andre Ok, sì Andre cerca di allinearti a noi Ma non so dove siete Perché sono Ah, è stato raggiù Aspetta, vediamo se riesco A raggiungerti No, così non ci arrivo Aspetta, arrivo pure io Ok, sono vivi Oppure le ho uccisi Ok, ok Ok, perfetto Ok, perfetto Va, vai Allora andiamo per qua Tututututu Tutututu Sento spari Che bello Ah, perché c'è la forgia Mmm No, stavo messo un po' male qua Buttate C'è uno là dentro Ho visto il movimento No Io c'ho due armi Che secondo me sono uguali Però vabbè Vabbè Vola V Non ho fatto una kill Faccio proprio schifo Ragazzi Qua dentro c'è la forgia Ah, sì Fammi forgiare un po' di Di scudini E qualche arma Non lo so Ah, non ti incassarai Dove sta sta forgia Dove, dove Ah, là Di qua, di qua Vola No, non posso Poi qua è tutto legno Se bruciava cosa Ciao Ah, destra Dove, dove, dove Sopra là Questa Di trovo la roccia Che mira che c'ho voglio No, che cacchio faccio Ho detto G H poi Bravo me Aia 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 No, mi ha bruciato Ah, c'ha l'arma In fafugo Maledetto Vabbè, vediamo se riesco A sopravvivere qua Tutti quanti qua siamo Quindi se ci uccido Qua è finita Oh cavoli Dimmi che non mi vedono Dimmi che non mi vedono Dimmi che non mi vedono Zitto, zitto No, mi non mi sa Ok, troppo tardi Peppe, se li passi solo tu Ma questa Era trasparente Ma è troppo bellino il gattino Vabbè Ma quando muori ti cade Tipo una cosa in testa Non ho capito Esatto Cosa è brutta Ho fatto proprio schifo Questa partita Mamma è pure io Vabbè, allora facciamo una cosa Andiamo su Discord Noi Ma tanto lo stacchi Ah, tu stacchi Allora andiamo tutti e due su Discord Sì, no, no Ah, ok Andrea Ok, allora Ti mando tutto Aspetta Ciao ragazzi Ciao Ciao Grazie mille Grazie mille Buonanotte, bello Grazie mille Ciao Andrea Mi raccomando con Con lo spritz Esatto Ok, allora facciamo un attimo Sta cosa di Epic Gamer Ok, allora Andiamo un attimo Su Twitch Su Twitch, no Su Twitch Su Discord E qua posso chiudere Anzi no Aspetto che entro E entro là E poi chiudo pure qua Vabbè, andiamo a Bross Game, no Audio Bross A posto Vabbè, questo è il nostro gruppo di Discord Proprio dove siamo tutti quanti noi che streamiamo E un paio di persone che ci seguono, penso, no? Un paio Sì Sì Mi manda la richiesta Diciamo Epic Gamer Alex Devi mettere anche lì un numeretto Però Dicino Ah già Lo fai tu o lo faccio io? Aspetta, lo sto facendo tu Come vuoi Posso fare pure io Allora te lo affido a te Ma è passata una macchina Oppure hai fatto tu? No, no Ero io No perché ho sentito pure Una macchina che passava Tipo Ah sì, anche L'hai fatto proprio Collegato Come posso entrare? Prima di te dovresti vedere Sul tuo profilo Tipo Esatto Fai Epic Gamer Alex E Dove sta? Ecco qua sì Dove sta? No, voglio Voglio vedere Informazione utente Mi account Ah ok Non me lo fa vedere Perché siamo data streaming Comunque sta tipo scritto Vicino al tuo account Dovebbe uscire Tipo Hashtag Con un numeretto Tipo Posso vedere quello di Peppe Profilo No, non me lo dice Strano Perché sei live Ah già Ha per protezione Bravo, bravo Discord Quindi devi fare Beh comunque si Si vede vicino al profilo Insomma Esatto In basso Allora penso si E se su profilo Qua Tipo Aspetta voglio vedere una cosa Riesco a disattivare la modalità streaming Perché così Faccio vedere proprio Dove avevo visto Qua Disattiviamolo Esco No non la posso Disattivare Ah ecco qua Disattiva Tanto Ecco vedi qua Per esempio Questo è il mio numero Vedi E questo qua Affianco proprio a nome Basta che tu premi destro Sul Anzi Qua non si può fare Ok vedi qua sotto c'è tipo il profilo piccolino Ti esce proprio scritto sotto Vedi Oppure se no fai così Impostazione utente E sta il mio account Ok bravo Perfetto E lì se lo fa entrare Aspetta un attimo Un attimo vedo Perché Mentre io sono in là E mi scrivono i messaggi Mi compari E non mi dite niente Aspetta Swoosh Però c'è un underscore Oppure No no penso È un trattino Swoosh Ah Aiuto il mio sedere Io sto su una serie scomodissima Volevo non vedere tanto bene Però è proprio scomoda Eh non mi riesco a trovare La Mmm